Cicatrici è un progetto multidisciplinare che mette insieme diverse competenze e diversi settori scientifici della Fondazione Bruno Kessler. L'unità 3D Optical Metrology si occuperà dello sviluppo tecnologico, quindi dello sviluppo di quelle soluzioni che permetteranno di garantire un accesso più ampio alle informazioni che verranno ricostruite tridimensionalmente. I partner, che in particolare fanno riferimento agli studi religiosi e storici, quindi si occuperanno di individuare un caso studio emblematico di uno strappo nel tessuto urbano, nel racconto di una storia di Trento che oggi non è più visibile. L'unità 3DOM invece si occuperà appunto della ricomposizione dell'immagine di questo caso studio attraverso tecnologie e assets tecnologici che ha sviluppato negli ultimi anni e soprattutto che riguardano applicazioni di realtà aumentata e virtuale.